E' anche per il contributo offerto alla comunità canicattinesi in termine di sicurezza e contrasto alla criminalità nei suoi tre anni di servizio al comando della tenenza della locale Guardia di Finanza che il prossimo 2 giugno il tenente Francesco Auriemma verrà insignito dell'onorificenza al merito di Cavaliere della Repubblica. Il prestigioso riconoscimento è stato inserito nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre del 2011 su indicazione dell'allora Ministro della Giustizia Angelino Alfano. L'ufficiale di origine campana negli anni di servizi a canicattie dal 2008 al 2011 ha saputo farsi apprezzare e conoscere non soltanto per i brillanti risultati conseguiti ma anche per la disponibilità dimostrata nei confronti delle locali istituzioni e dell'intera comunità canicattinese. Un impegno che si è manifestato in particolare nei confronti dei giovani della città con numerosi e sempre produttivi incontri tenutisi nelle scuole per discutere con loro dei pericoli e dei rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti. Fenomeno contro il quale, sempre alto, è stata l'attenzione nei tre anni di comando della tenenza da parte dell'ufficiale campano. Giovani ma anche anziani sono stati protagonisti attivi dell'azione di educazione alla legalità di cui si è reso protagonista Auriemma che è riuscito a creare un filo diretto di collaborazione tra il corpo e l'università della terza età, senza dimenticare il ruolo attivo nella lotta ad ogni forma di illegalità in grado di inquinare il civile vivere della comunità canicattinese. Dubbi rimangono sul luogo dove avverrà la cerimonia di consegna dell'onorificenza, se alla prefettura di Agrigento o in quella di Napoli, provincia di origine del tenente. Grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto è stata espressa dal sindaco della città Vincenzo Corbo e dal consigliere provinciale del PDL Ivan Paci che ricordando l'impegno di Auriemma nei sui trascorsi a Canicattì lo ha definito un ufficiale che non si è risparmiato nel suo lavoro cercando di coniugare la sua missione istituzionale proprio dal corpo della Guardia di Finanza con quella di personale partecipazione a qualsiasi evento potesse essere utile alla crescita sociale della nostra collettività.